Sono Raffaella Ghisafi, Presidente Operativo dell'Osservatorio Imprese e Consumatori. OILC e la sua grande squadra presenta istruzioni per l'accesso, brevi contenuti audio-video realizzati in occasione del mese dell'educazione finanziaria per fornire delle istruzioni ad utenti affetti da patologie alta vista in materia di accessibilità sicura e consapevole ai moderni sistemi di pagamento e di prelevo del contante. Perché questa scelta? Perché quest'anno il mese dell'educazione finanziaria parla di futuro e noi il futuro lo immaginiamo così, tecnologico, concreto, possibile ed accessibile, in cui l'innovazione è inclusione. Buona visione! La tecnologia è sviluppo. La tecnologia è abilitante. Perché accessibilità l'auto è autonoma. La tecnologia è ecua. La tecnologia è passata.